Ha fatto la spesa, ho capito? Ma che carino! Non per lei? No. Ah, per loro! Bene, bene. Sì, però adesso si sbrighi perché siamo per iniziare. Va bene ragazzi, sentite, non lo so come mi chiamo, va bene? Datemi il tempo di nascere. Com'è che là dentro dicono che siamo tre gemelli, ma in fin dei conti ci assomigliamo solo io e lui? E dove sei stato finora? Dimmi dove sei stato fino a quest'ora. Abbiamo ancora un posticino per un altro fratellino. Va bene, ma nell'attesa si fa, lo so, un filmettino porno. Dimmi che ci fai con quelle vani? Ti esercito? Per cosa? Per quando sarò grande, signore? Grazie a tutti.